Dopo molti mesi di pausa, oggi riparte finalmente la commissione d'inchiesta su bussi, io faccio i miei auguri al neopresidente Blasioli che sono certa farà un lavoro scrupoloso per come lo conosco. Spero invece che la maggioranza di governo cambi atteggiamento perché troppo spesso in questi anni e in questi mesi l'ho vista debole con i forti e forte solo nella propaganda. Nessuna parola è stata spesa nei confronti di Edison che in queste ultime settimane dalla sentenza del Consiglio di Stato in poi è stata ufficializzata come la responsabile dell'inquinamento, tante invece polemiche nei confronti del Ministero e tanta propaganda. Il Ministero ha già chiarito che i 50 milioni di euro per la bonifica resteranno a bussi ma ha ovviamente chiarito un principio fondamentale cioè che chi inquina deve pagare. Per anni non sapevamo chi fosse il responsabile dell'inquinamento e oggi ho proposto alla maggioranza e a tutti i commissari di redigere un documento comune indirizzato ad Edison per scoraggiarla a fare nuovi e ulteriori ricorsi ma cominciare a prendersi le proprie responsabilità e cioè iniziare i lavori di bonifica.